Cari amici, come sapete l'Unione Europea con una decisione senza precedenti ha bocciato la manovra economica del governo Conte e ha chiesto di riscriverla in modo che essa stia entro i paletti economici fissati da Bruxelles stessa. Ora questa vicenda fa emergere a mio modo di vedere un problema enorme di democrazia che prescinde dal contenuto della manovra e anche dalla maggioranza che l'ha scritta. Mi spiego subito, innanzitutto i tecnocrati che hanno bocciato la manovra in qualche modo ci rappresentano? La mia risposta è negativa, ma credo che sarebbe negativa anche per molti cittadini se questo quesito gli venisse posto. Seconda cosa, se io voto una certa maggioranza per ottenere una cosa che può essere la flat tax, il reddito di cittadinanza, ma qualsiasi altra cosa, e poi scopo che non si può fare perché Bruxelles pone il veto, allora io mi chiedo, primo, ma ha senso che vada a votare oppure no? E secondo, chi è il vero padrone del paese, se noi italiani o la tecnocrazia europea? C'è poi una seconda cosa che vorrei farvi notare, una cosa molto triste, cioè che quasi tutti i giornali italiani corrono in soccorso dell'Unione Europea, perché vorrebbero che questa fosse la spallata necessaria per abbattere il governo Conte e la maggioranza che lo sostiene. È un calcolo un po' di piccola bottega, visto che le questioni in campo sono ben più importanti. Ora, per trovare una discussione su questi temi, bisogna espatriare e leggere il Wall Street Journal e il Financial Times. Non a caso, due organi di stampa quotidiani anglosassoni e sappiamo che gli anglosassoni con la democrazia hanno un rapporto più duraturo e migliore rispetto a noi.